Grazie Presidente, grazie dell'invito. Sono il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi. Proprio un anno fa qui parlevamo della costruzione di un sistema informativo e delle interazioni che ci devono essere tra l'ISPRA, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche Agricole. Ritorno su alcuni passaggi fatti all'epoca, perché poi non è che si è mosso un granché in termini di collaborazione, ma so che si sta andando avanti su un sistema informativo comune in modo tale che i dati, nella logica di ISPRA, possano andare a fattore comune e la condivisione delle informazioni sia essenzialmente disponibile, ma soprattutto ci sia traccia storica degli interventi che si fanno sul territorio. La tematica del consumo di suolo non può essere considerata a sé stante, è un tema politico, perché indubbiamente è il tema dell'economia, di come questo Paese vuole cambiare o vuole proseguire su un canovaccio che già ha dimostrato i suoi limiti. Quindi c'è un'incidenza sulla fiscalità, sulla formazione dei bilanci delle amministrazioni locali, non ci possiamo, come dire, nascondere sul fatto che l'ex legge Buccalossi e quindi i diritti alla trasformazione dei suoli portano nelle casse dei bilanci comunali. Vi ricordo che c'è un paragrafo che con la legge 13 del 2010 si è cercati di cambiare, la legge 13 è quella sugli spazi verdi, che ha nell'origine, la legge 10 diceva che quei contributi non dovevano andare sulla parte ordinaria del bilancio, quindi sulla copertura delle spese ordinarie, ma doveva andare su interventi infrastrutturali o comunque di investimento che devono servire a pereguare l'intervento di trasformazione. Ora, se non interveniamo lì, evidentemente noi registriamo, registriamo una serie di eventi che continueranno a trasformare suolo, non vi è dubbio. Come dobbiamo intervenire sulla norma costituzionale, cioè sul diritto di proprietà, non è soviet supremo, attenzione, ma la mitigazione, oggi siamo arrivati a un punto in cui la trasformazione del suolo, soprattutto dei suoli più fertili, facevamo delle valutazioni, delle trasformazioni ci sono state con le bonifiche agrarie dell'Ottocento, Roma, i primi 20 chilometri sono stati bonificati alla fine dell'Ottocento dopo l'unità d'Italia e vedete c'era una contrapposizione tra chi voleva queste trasformazioni, lì erano le cosiddette marane alla romana e quelle aree oggi non sono più terrini, fertili che venivano utilizzate per un'agricoltura moderna, lì già c'era la prima trasformazione, ma erano dei proprietari fondiali, all'epoca il Parlamento era fatto prevalentemente, soprattutto al Senato, da proprietari fondiali che si opponevano a questo tipo di trasformazione. Oggi siamo andati oltre, naturalmente questi suoli non sono più adibiti ad agricoltura, sono adibiti alla trasformazione che sono avvenute, tipo residenziale, urbanistico, recettivo, quello che poi vediamo, lo vediamo e lo registriamo. Quindi se noi sulla legge DDL, non legge ancora, non lo so quando ci arriveremo, ma speriamo ci arriveremo, sul DDL consumo di suolo c'è un approccio di quel tipo che è limitato al fatto che non possiamo intervenire sul diritto di proprietà, cioè quello che se in quei terreni c'è un contributo comunitario o è stato preso un contributo comunitario, lì c'è il divieto di trasformazione, però almeno 20 anni, prima 10, 20, adesso insomma lì c'è limitato, ma è troppo poco, perché quello già era contenuto nel primo decreto legislativo 227 del 2001, che vi pido a riandare a leggere, poi 109 sul discorso della trasformazione dei suoli, e lì era contenuto ma non è avvenuto niente, perché se non c'è un registro nazionale dove uno contabilizza, è evidente che questa cosa poi sfugge. Lì noi abbiamo fatto delle proposte di modifica al disegno di legge, perché consideriamo che il suolo, che è una parte viva dell'ecosistema, è però anche considerato un contenitore che subisce comunque delle trasformazioni dalle diverse attività antropiche, così come l'agricoltura l'ha modificato tanto da rendere alcuni paesaggi molto rilevanti, paesaggi storici, c'è registro dei paesaggi storici, ma c'è un altro elemento, noi per dare valore e quindi metterlo, perché noi dobbiamo mettere sullo stesso piano due valori, quello della trasformazione urbanistica e quello del valore del suolo per gli usi non urbanistici, cioè quello agricolo che dipende dalle valorizzazioni delle produzioni tipiche o a marchio. Noi siamo arrivati a 300 produzioni registrate doppie IGP, noi poi chiederemo la collaborazione di Ispra, faremo un rapporto su 15 prodotti a marchio per vedere se c'è un riconoscimento identitario sul territorio, sui luoghi di produzione. Sapete che queste delimitazioni sono areali, ci sono dei disciplinari di produzione che guardano esclusivamente la modalità di produzione, ma non nella identità del rapporto con il territorio, del rapporto con i manufatti che ci sono in quel territorio, sono scoppiate migliaia, centinaia di migliaia di aree, piccole aree artigianali, industriali senza connotazione, senza connotazione identitaria né rapporti con questo tipo di realtà. Mentre prima un agrometo nasceva anche in maniera forte dal punto di vista strutturale, perché le gradunature e i sciglionamenti sono interventi che hanno portato via prima il bosco, oggi ci sono gli olipieti, sono interventi significativi dal punto di vista paesaggistico, però hanno progettato un paesaggio che oggi rappresenta molte parti dell'identità della nostra realtà nazionale. Allora questo rapporto serve per dire ma che tipo di indirizzo vogliamo dare a questo paese? Continuare non solo a consumare suolo, ma anche quello di non dargli una connotazione identitaria? Con lo scusa che l'intervento e l'investimento deve essere soltanto a basso costo? Oppure vogliamo riprodurre effettivamente i canoni del risorgimento, dove il Made in Italy e l'identità nazionale viene riacquistata anche da questo passaggio terreno di noi stessi in questo periodo di vita? Perché se no, altrimenti non solo lasciare il segno, ma lasciare qualcosa che non è, come dire, solo e esclusivamente trasformazione. Ecco, se non interviamo su questi fattori, che sono fattori estremamente politici, estremamente politici, è inutile che ce lo nascondiamo, perché altrimenti noi tecnici, noi professionisti registriamo, va bene, e dobbiamo anche dare un'indicazione come ordini, noi abbiamo fatto un codice deontologico dove alcune trasformazioni le consideriamo, come dire, deontologicamente scorrette, cioè vogliamo che la progettazione sia di altro tipo, d'accordo? Che ci sia integrazione paesaggio e ambiente negli interventi di trasformazione, ma anche di utilizzazione del suolo, perché l'altro tema dell'utilizzazione del suolo è anche quello dei fitofarmaci, dell'uso della chimica in agricoltura, io non sto sparando solo su un settore, io sto ragionando, d'accordo? A 360 gradi, perché evidentemente questo bene è un bene che deve durare nel tempo. Allora quali, non solo regole, perché ognuno qui tira la camicia, no? La giacca, qualcos'altro da una parte e dall'altra. Però poi arriviamo alla sintesi, no? E è la sintesi oggi che ancora solo due regioni, credo, hanno fatto una legge regionale urbanistica dove dicono basta, ok? Poi bisogna vedere come ragioniamo il contenitore, però intanto abbiamo detto basta. Il resto, segnalo l'ultima cosa che è sul sistema informativo, perché se non costruiamo questo sistema informativo e mettiamo mano a tutte le informazioni che oggi abbiamo disponibili per avere la storicizzazione degli interventi, degli interventi tutti e di chi li ha realizzati questi interventi e delle responsabilità che abbiamo, anche come protettisti, non solo di chi li ha autorizzati. Questo è un elemento essenziale. Faccio un esempio, c'è all'epoca di Corinne Hancover nel 1996-97, io faccio un po' questo mestiere, insomma, no? Chiesi al centro interregionale la disponibilità perché non si conosceva e lì la matrice, era una matrice naturalmente a scala che doveva essere poi raffinata a livello territoriale perché era una matrice 1 a 4 ettari, insomma, adesso vado a memoria, insomma, però tecnicamente è. E soprattutto anche la leggenda, l'utilizzo delle leggende, cioè di come interpretiamo il suolo, no? Perché poi le statistiche si fanno con questo. Ultimamente sono andato sempre sul centro chiedendo a alcune regioni e alla regione capofila che sta cercando di mettere insieme le diverse leggende che si utilizzano per classificare il suolo. Beh, ci sono 18 leggende regionali. 18 leggende regionali che, mettendole insieme, no? Non abbiamo, no? Quella, quindi, chiarezza di come poi andiamo a interpretare i suoli. Perché accanto al consumo di suolo classico, c'è il consumo di suolo per le discariche, c'è il consumo di suolo per, no? Perché il suolo non si può lavorare, e cioè aspetti chimici. Cioè, ci sono diversi aspetti che se Ispra, perché io reputo Ispra, secondo me, l'organismo che può fare questo lavoro, no? Per mettere insieme e coordinare tutti i luoghi, perché è una rete, non dobbiamo scordare, compresi gli ordini professionali che si devono far carico attraverso l'agenda digitale di un rapporto della digitalizzazione con la costituzione del fascicolo di progetto, dove vai a entrare nel sistema, utilizzi i dati e metti a disposizione, se no non si creerà mai un sistema che cresce dal basso, no? Perché pensare di avere i soldi per informatizzare tutto è folle, è impossibile, d'accordo? Bisogna avere una matrice e poi tutti coloro che lavorano sul territorio lavorano su quel portale. Beh, questa è la sfida. Ma quello, ripeto, è l'ultimo atto, cioè quello del monitoraggio, prima delle scelte che dicevo prima, perché le scelte poi senza monitoraggio, no? Evidentemente, no? I buoi riescono nuovamente dalla stalla, perché ancora, insomma, la stalla non è chiusa. Grazie. Grazie. Grazie Andrea, brillante come sempre, e credo tu hai risottolineato due aspetti, per cui ci teniamo molto a continuare ad avere questi incontri in cui le varie voci si scambiano. Due o tre risposte che mi sembra importante, sono d'accordo su tutto. Soltanto le declinerei in alcune esperienze che abbiamo fatto. Non le abbiamo ancora esposto. Ad esempio, l'esperienza sull'apporzionamento delle pressioni da nitrati è stata un'esperienza che certamente ha avuto dei contenuti, ma ha avuto soprattutto la costruzione in mancanza del regolamento dell'articolo 23 di porre attorno ad un tavolo le cinque regioni dominanti, fondamentalmente, in cui c'è quasi oltre il 40% del PIL nazionale, 37% grosso modo. E condurle, e quindi caricarsi lo zainetto, andare incontro, non aspettare che ti vengono andare, mettendole assieme, e siamo arrivati a condividere una piattaforma che rendiamo disponibile, che abbiamo reso, renderemo operativamente disponibile anche al Ministero dell'Ambiente, e quindi un passo verso quel discorso, in cui c'è tutto un set di dati che servono per questo, i cui il set di dati, come, dove, ritenerli, sono discussi da un tavolo comune e sono condivisi in forma accettata. È la prima volta che succede. La prima volta che succede è anche all'interno delle regioni, perché come tu sai, acqua è stata da una parte, agricoltura dall'altra, ambiente dall'altra, infrastrutture dall'altra. In realtà si è riusciti a sedere tutti quanti queste componenti, assieme alle agenzie regionali che hanno formato gli hub regionali, per quanto ci riguarda il monitoraggio e gli elementi di analisi, perché poi c'è la valutazione anche dei monitoraggi, cosa vedi, cosa misuri, e credo che quello sia un grande successo. Ti dico un grande successo perché utilizza tutte le informazioni che abbiamo detto, tra cui parte anche il consumo di suolo, e lo annuncio qua, lo annuncio anche ai miei. Penso che il prossimo rapporto che faremo e presenteremo qua sarà un rapporto su nitrati, pesticidi, fitofarmaci e altri inquinanti del suolo e delle acque, in cui fondamentalmente faremo l'altro aspetto in cui il suolo è centrale, di ciò che ci sta sopra e va quello sotto e declina esattamente quello che dicevi tu. Io credo che questo sia l'altro passo, in cui noi già facciamo il rapporto pesticidi, e lo sottolineo a tutti quanti, lo facciamo volontariamente, indipendentemente da un disegno, ma come impegno interno, così come facciamo volontariamente, perché nessuno ci dà dei soldi, l'ETS, l'Europea Trade System, per le missioni, crediamo che razionalizzarli, portarli in questa forma e discuterli per quello che è, la loro fertilità, sia esattamente l'impegno che ho preso, anche col tuo ordine, nonché col Parlamento, rispetto ad un processo lento di open data che deve coinvolgere anche i cittadini, oltre che i professionisti in quel processo culturale. Penso che questo sia uno degli elementi, ma non scandalizzatevi, perché oggi noi siamo anche organo cartografico dello Stato, non dico ai più giovani, abbiamo messo sul tavolo, di nuovo volontariamente, degli organi cartografici, e quello al di là, vi lascio perdere le discussioni, chi fa cosa, tra cui c'è anche l'agenda digitale, c'è come l'Italia digitale, che adesso cambia sempre nome, non mi ricordo mai come si chiama, tra gli elementi cartografici c'è l'agenzia delle intrate, che era l'ex agenzia del territorio, tanto per essere chiari, quindi c'è la parte difesa, che sono ben tre organi cartografici, ci si annoi, ci discutevamo proprio la difficoltà. Beh, sapete un dato che ne usiamo? Chi è il sistema, io non ho un soggetto, chi è il sistema che ha mai certificato i confini amministrativi? Ah, non c'è. Cioè i nostri confini amministrativi in realtà non hanno nessun bollino. Il che di per sé, dice, uno sa giusto, insomma, in qualche modo poi ti assesti, no? Però questo vi dice come delle guerre sotterranei stupide, povere, rendono il paese ancora più povero. Cioè ci tagliano le gambe ai nostri figli, ai mio figlio, ai vostri figli futuri. Allora questo è inammissibile. Io credo che questo deve superare qualsiasi interesse individuale. Allora credo che questo per questo ISPRA esista, per questo esiste il sistema agenziale, per questo esistono gli altri, come ho detto, servizi tecnici distribuiti dello Stato. Ok? Quindi, Giuliano Sauli.